Vinitaly 2022, siamo qui nel stand Follador Prosecco in compagnia di Massimo Morelli, brand Ambassador. Allora raccontaci un po' di questa bottiglia che abbiamo dinanzi. Allora questa bottiglia che abbiamo davanti è l'ultimo prodotto dell'azienda vinicola Follador, è un Prosecco Superiore Valdobbiadene di Ocg che si chiama Foselius, è un brut, è caratterizzato dalla sua freschezza e dalla fragranza di mela verde, è l'ultimo nato in casa Follador, un'azienda vinicola che ha 250 anni di tradizione, situata nel cuore del conegliano Valdobbiadene. Voi avete anche un progetto bollicini di strada? Sì, noi in collaborazione con l'azienda vinicola Follador abbiamo ideato questo progetto che si chiama Bollicini di strada che è un food truck che gira i maggiori eventi di street food e organizza anche degli eventi privati, eventi privati quali matrimoni, quali eventi aziendali e portiamo i prodotti Follador in giro per gli strada e in giro per gli eventi di street food. Un consiglio per i giovani, a chi si avvicina diciamo al mondo del vino? Allora, innanzitutto un po' di formazione, imparare a capire un po' di storia del vino, un po' di abbinamenti, un po' di degustazioni e poi andare in giro, ci sono tante iniziative con l'enoturismo, andare in giro, visitare le cantine, venire nella zona del conegliano Valdobbiadene, se venite a visitarci dateci un colpo di telefono prima, saremo lieti di accogliervi in cantina e farvi degustare i nostri prodotti, sicuramente andare in giro e conoscere, conoscere. Allora, vedo questo packaging carinissimo, cosa c'è dentro insomma, come si può gestire? Allora, questa è una cappelliera e diciamo è particolare per un regalo, se vogliamo fare un regalo importante la possiamo gestire all'interno o con tre bottiglie o con una bottiglia e due bicchieri come quelli che abbiamo qua di fronte a noi e se vogliamo fare una sorpresa, un regalo a qualcuno è sicuramente un oggetto ai più indicati. Vedo un po' che c'è un'immagine molto molto particolare su questa confezione diciamo regalo o particolare, mi puoi un po' spiegare cosa rappresenta? Beh certo, questa è la tradizione, questa è l'immagine del conigliano Valdobbiadene che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, questa rappresenta la tradizione perché questo è il vigneto storico della famiglia Follador e rappresenta la tradizione con la nonna famiglia Follador e il nipote, quindi la nuova generazione, quindi la tradizione che guarda al futuro. Io concluderei però con un brindisi con i nostri prodotti. Grazie, grazie